L'Unione degli Universitari di Teramo è tornata a chiedere agevolazione sui costi degli abbonamenti dei mezzi di trasporto. Questione da sempre al centro delle battaglie del movimento studentesco che da anni si trova a fare i conti con gli stessi problemi e con un sistema che a loro dire non funziona come dovrebbe in una città universitaria che crea discriminazione fra gli studenti. Tra le richieste ci sono quelle della creazione di un biglietto unico come avviene già in altre città e la presenza di autobus serali visto che l'ultima corsa è alle 20.45, un deficit che penalizza soprattutto quegli studenti che vivono nel quartiere universitario. Il biglietto unico che c'è in altre città come Chiedi, come Pescara, ma che manca a Teramo, così come mancano scontistiche sia per l'ISEE sia per gli studenti. Ricordiamo che in altre città universitarie si investe molto sul tema del trasporto sostenibile. Per esempio a Parma abbiamo con 35 euro un abbonamento annuale su tutte le linee di trasporto pubblico locale, a Teramo invece con 32 euro abbiamo l'abbonamento di un solo mese. Siamo scesi in piazza, qualche miglioramento all'epoca c'è stato, ma purtroppo il Covid ha reso mano il tutto. Ora sì, c'è bisogno nuovamente di investire su questo tema, siamo pronti a mobilitarci nuovamente, ovviamente soprattutto per quelli che sono gli studenti residenti proprio a Colleparco che non ha un collegamento diretto col centro, soprattutto negli orari serali. Avete incontrato il Comune oppure avete chiesto degli incontri? Attualmente col Comune ancora non ci sono state delle interazioni, ma il problema ricordiamo che è soprattutto regionale, quindi di investimenti regionali, investimenti sul trasporto pubblico che anche il Comune ha chiesto. Mancano i chilometri, ma questa non può essere una scusa. In altri Comuni questo problema è stato risolto, bisogna intervenire a livello normativo in regione e risolvere questo problema in sede regionale.